Tra i nuovi settori creati dalla pandemia c'è anche quello dei dispositivi di protezione sanitaria in versione lusso. In Italia i primi a cogliere le nuove opportunità sono stati i tessitori umbri. Abbiamo avuto tantissime richieste per la mascherina Luxury da tutte le parti d'Italia, ma anche da fuori. In modo particolare una signora tedesca che ha ordinato tre mascherine ha detto che lei non vede l'ora di poter usare, che riaprano i teatri in Germania per poter utilizzare la nostra mascherina. I tessuti sono prodotti su telai a mano vecchi di 200 anni, gli stessi impiegati per realizzare preziose stoffe di lino e di seta che sin dal XIV secolo hanno reso famoso questo territorio. Grazie al lavoro di sapienti artigiane delle semplici mascherine diventano così uno status symbol, un oggetto che pochi prevedibilmente potranno permettersi dato che ciascuna può arrivare a costare fino a 2000 euro.